buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa del 22 maggio del 2020 vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata innanzitutto il Corriere della Sera e tutti gli altri giornali compreso il giornale di Sallusti ma non solo i grandi commentatori da stampa si occupano di quello che è successo ieri in aula a Montecitorio l'unico ad avere un taglio un po' diverso come spesso avviene in questo periodo è la Repubblica di Molinari che invece apre su temi economici e in particolare sulla cassa integrazione ma che cosa è successo ieri? Ieri ha parlato il parlamentare per me sconosciuto Riccardo Ricciardi detto secondo ci sono vari diciamo oggi ritratti di questo sconosciuto di questo peone come verrebbe raccontato un tempo ma in realtà tutti lo sono quelli che sono arrivati col Movimento 5 Stelle nel senso che sono nuovi alla politica beh questo Riccardo Ricciardi viene considerato il Che Guevara di massa un uomo comunque legato al presidente della Camera Fico quell'anima insomma de sinistra del Movimento 5 Stelle diciamo quella all'opposto di Di Maio e di questi altri qui beh e che cosa fa? Aizza molto l'aula perché inizia a dire che è colpa della Lombardia della pessima sanità delle privatizzazioni potete immaginare voi tutte quelle minchiate che stanno dicendo sulla Lombardia e soprattutto i deputati lombardi ma financo dicono il ministro della salute e speranza si vergognano e inizia a esserci una bagarre in aula incredibile leghisti gli dicono delle cose tremende lui urla quelli ultrano interrompono l'aula Fico insomma la bagarre in aula come noi abbiamo già conosciuto altre volte e Giorgetti che in genere un uomo piuttosto diciamo come possiamo dire molto tranquillo insomma il l'anima grigia e del Movimento di Salvini dice che in un'intervista da una lettura piuttosto interessante perché dice ci chiedono la collaborazione e poi ci provocano sui morti insomma è veramente imbarazzante la situazione di questa vicenda per la Lega ed è forse anche il commento che fanno un po' più interessante che fa Sorgi cioè dice ma non solo Sorgi Postiglione Vincenzo Postiglione oggi su Corriere della Sera dice Riccardo Ricciardi non aiuta l'accordo con le opposizioni di cui Conte peraltro aveva appena parlato in aula e aveva fatto un'intervista giorno precedente al foglio che non vi ho citato e Sallusti dice il Movimento 5 Stelle non sono avversari politici sostiene Sallusti sul giornale ma sono teppisti mantenuti dalla politica non ci teniamo il modello Lombardia e loro si tengano questo mi sembra piuttosto efficace questa frase di Sallusti e loro si tengano il modello Roma Raggi sulla quale però oggi c'è un'intervista della Lombardi che è un'oppositrice della Raggi che dice scusatemi dice la Raggi mi sembra che potrebbe insieme alla pendina o lasciare il passo a qualcun altro devo dire che poi la cosa incredibile di tutta la vicenda della Raggi è che lei è stata consigliere comunale poi sindaco e fino a provo contraria questi dicevano mi sembra che avessero detto nel passato che non potevano fare più di due mandati Sorgi dice cercano lo scontro la settimana scorsa e c'era stato il deputato della Lega che aveva dato a Silve Romano della neoterrorista e questa volta Ricciardi che specula sui morti questo è Sorgi sulla stampa insomma un Parlamento che forse dice Sorgi si deve riprendere dal lockdown cercano disperatamente di trovare qualche cosa di cui parlare Travaglio è il più bravo di tutti è il più di tutti è un monumento a Travaglio perché Travaglio è veramente come si può dire è il minculpop di questo governo tra l'altro senza nessuna vergogna e sapete come la mette Travaglio sul fatto immonde gazzarre contro Bonafede e Ricciardi cioè le gazzarre sono contro Bonafede Ricciardi cioè Bonafede quello che ha detto che il sospetto è l'anticamera della verità non l'ha detto state attenti è nella sua come possiamo dire nel suo dna cioè di questi grillini diciamo giustizialisti il che è perfettamente legittimo ma quando il sospetto lo riguarda lui c'è una gazzarra se qualcuno gli dice scusami ma non eri tu quello che diceva che ci si doveva dimettere tutti al solo primo sospetto e dall'altra parte la gazzarra sarebbe contro Ricciardi che va in aula e dice che è tutta colpa della Lombardia insomma veramente fantastico e tant'è che oggi il giornale di Travaglio legittimamente fa la sua battaglia politica diciamo scabrosa secondo me ma la fa dice Lombardia fuori controllo ieri ma non si deve dire dice il fatto e insomma la gazzarra è colpa di questi qua nel frattempo andiamo sulle questioni che ci riguardano oggi abbiamo lasciato perdere un pochino la questione diciamo degli spritz dei criminali che prendono lo spritz basta e avanza forse nei giorni scorsi ma l'operazione vacanza è fantastica da una parte Conte si scopre Mussolini nel senso buono del termine per carità ancora non in quello anche se i dpcm certi suoi atteggiamenti vi consento vi consento ma la cosa che non riesco a capire più incredibile che dice ieri Conte e che noi trattiamo come se nulla fosse perché in questo lega secondo me una certa destra appunto a Conte fate le vacanze in Italia oh ma come ti permetti ma come fate le vacanze in Italia ma è stupenda stiamo parlando dell'autorchia delle vacanze cioè noi adesso per esempio non possiamo andare in Grecia oppure non possiamo andare cioè ma che vuol dire fate le vacanze in Italia noi facciamo le vacanze fino a prova contraria dove ci pare e poi soprattutto verrebbe da dire a Conte facciamo le vacanze in Italia dove prendiamo il passaporto sanitario per andare in Sardegna quest'altra grande geniale intuizione del presidente leghista della Sardegna cioè Conte dice fate le vacanze in Italia però attenti non andate in Sardegna attenti perché adesso ci richiudo tutto attenti non prendete lo spritz attenti dovete avere il plexiglass nei ristoranti attenti non potete stare a più di due metri dentro le come si dice nelle spiagge poi se state ovviamente le spiagge vi dovranno costare più molto di più che andare in Grecia in un'isoletta in cui probabilmente saranno più seri più intelligenti e più di buonsenso rispetto alle follie della nostra Inail ma comunque insomma nel frattempo tu dici contro gli accordi bilaterali nell'Unione Europea ma io mi chiedo ma io mi chiedo se l'Europa fa degli accordi bilaterali forse ci poniamo un dubbio che in Italia non vengono perché se tu arrivi dall'Europa in un paese devi stare 15 giorni devi avere il passamento sanitario devi non puoi passare da una regione all'altra cioè uno che venisse un grande turista americano che noi vorremmo vedere le città d'arte deve venire a Roma ma secondo quello che stanno dicendo tutti non può andare a Firenze e non può andare a Venezia e non può andare a Milano e poi se va nel negozio di Milano viene trattato come un appestato e voi dite fatevi la vacanza in Italia voi siete dei matti non avete capito niente temo non avete capito non perché l'abbia capito io ma perché basta andare in giro se Conte andasse in giro andasse a Foggia nel suo paese nativo andasse a Bari andasse a vedere un po' di commercianti in giro capirebbe che stiamo morendo stanno morendo e questo il punto fondamentale nel frattempo Repubblica che ha molta più attenzione nei confronti dell'economia di quanto hanno gli altri giornali titola mi sembra pagina 3 pagina 4 di Repubblica dicendo adesso ve lo dico quanti sono chiusi 90.000 bar e ristoranti 90.000 bar e ristoranti sono 90.000 morti economici di cui questo governo ha una grande responsabilità perché questi morti economici derivano dal fatto che non hanno avuto aiuti sufficienti non hanno gli hanno fatto fare un lockdown assurdo gli danno protocolli incerti e completamente inattendibili per chi voresse chiudere un fatturato decennio non fatturato avesse un minimo di margine nel frattempo 7 milioni sono le casse integrazioni cioè la cassa integrazione erogata ad aprile quanto quella fatta in tutto il 2019 ci ricorda Repubblica e non solo lei perché Repubblica apre su questo solo 800.000 di questi sono state pagate dall'inps l'altro le hanno pagate le imprese capite voi la genialata cioè 800.000 di 7 milioni sono pagate dall'inps l'altro lo pagano le imprese lo anticipano le imprese quelle che dovrebbero essere cattivone 2,6 milioni ancora da pagare di queste casse integrazioni e allora l'unico che in questo caso ha ragione è Totti il governatore della Liguria oggi intervistato mi sembra dal Corriere della Sera e dice se fosse stato per me io avrei aperto anche prima del 3 giugno viva Totti ve lo dico con grande franchezza non fa più parte né di Forza Italia né della Lega non so di che cosa forse c'è il suo partito viva Totti perché Totti è un presidente di buon senso tu prendi da una parte Totti e dall'altra metti Solinas prendi un sindaco che vuole rendere la società aperta e prendi dall'altra parte il sindaco che nomina il cognato capo di gabinetto ecco chi preferite da questi sindaci beh insomma la risposta è abbastanza banale sul passaporto sanitario ma è chiaro che potrebbe essere una buona idea in astratto dice Totti ma voi capite cosa e quanto è complicato realizzarla tocca che Totti ne parli con qualche suo collega diciamo in giro per l'Italia il messaggero riporta un'altra questione importante cioè che Conte questa sarebbe cosa buona e giusta vuole adottare quest'idea di Renzi ma che è un'idea di buon senso e cioè di cambiare il codice degli appalti e soprattutto di nominare 4 5 10 20 commissari che facciano 10 15 20 ponti morandi in questo paese in cui non si tocca foglia per questi burocrati della minchia e soprattutto queste leggi scritte in questa maniera basta vedere l'ultima legge guardate è fantastica l'articolo 92 93 del decreto rilancio in cui si sarebbe dovuto cambiare il decreto dignità se voi leggete quella norma e lo fanno ovviamente tutti quanti i come si chiamano i direttori del personale delle grandi aziende non capiscono se possono o meno prorogare i contratti a termine oltre i 12 mesi perché a 12 mesi c'è la tagliola del decreto dignità questo è il sindacalesimo il sindacalismo burocratico delle nostre leggi btp italia btp italia ragazzi è stato un grande successo certo 22 miliardi tutti dicono vale più del mes eccetera c'è un piccolo dettaglio lo sapete qual è il dettaglio che il tesoro deve pagare l'1,4 per cento di interessi per questo btp che dura 5 anni oggi il sole 24 ore nel pezzo di ferrando è chiarissimo perché ha avuto successo questo btp perché paga l'1,4 per cento con un titolo a scadenza 10 anni a 5 anni esattamente quanto oggi paga un titolo a 10 anni per spiegarla molto bene questa cosa è più semplicemente per voi che forse vi perdete i dettagli interessi prezzi eccetera è come se domani vanno dagli italiani e gli dicono senti tu puoi comprarti un'azione che sul mercato vale vale 100 la puoi comprare a 90 secondo 90 a 80 quindi c'è un'azione che sul mercato vale 100 viene contrattata a 100 e dicono italiani per tre giorni quell'azione che vale 100 la potete comprare a 80 secondo voi gli italiani che fanno si precipitano a comprare quell'azione peraltro vi segnalo oggi lo racconto il sole 24 ore che su questo btp sono arrivati 14 miliardi di risparmi degli italiani in quattro giorni sapete cosa è successo a marzo gli italiani hanno depositato sui conti correnti 17 miliardi in più rispetto al mese precedente cioè quello che voglio dire gli italiani non sanno dove mettere la loro liquidità perché se la fanno sotto così quindi insomma successo sì ma a caro prezzo bene fantastica l'idea dei contributi covid perché questa era un'altra di quelle genialate di arcuri che aveva detto però per la verità non è solo colpa sua lo stato dava 50 milioni alle imprese che si dotavano di dispositivi contro il contagio beh 50 milioni e ha fatto il click day in mezzo secondo sono andati ovviamente scomparsi oggi ci spiega che sono stati aggiudicati questi 50 milioni e 3.150 imprese su 200.000 richieste è un paese civile quello che dà i soldi contributi per comprare mascherine tamponi e quant'altro alle imprese in mezzo secondo e vince soltanto chi clicca per primo vi sembra un paese normale civile questo bisognerebbe chiederlo ad arcuri conte tutti questi fenomeni abbiamo fatto il possibile nel frattempo le imprese falliscono l'abbiamo già detto ce lo racconto una storia drammatica di una grossista dei tessuti di abbigliamento di torino sulla prima pagina della stampa e però la cosa che fa notizia non è tanto purtroppo il fallimento di questa azienda perché drammaticamente ne vedremo tanti mi spiace e sarà la battaglia che dovremo fare nei prossimi mesi ma la reazione del presidente dell'abi cioè patuelli vecchio liberale di mia conoscenza che riesce a dire 8 richieste di prestiti su 10 sono state già accolte io non so dove viva patuelli probabilmente vive un numero nelle statistiche nei numeri nelle cose giuste ma dire che 8 richieste su 10 sono state accolte devo dire francamente spero che questi numeri suoi siano giusto a qualche dubbio o qualche dubbio che questi numeri raccontino la realtà di oggi come spesso questi signori che diventano presidenti forse non si rendono bene conto che 8 8 su 10 patuelli 8 su 10 ma veramente questo vale per esempio fino a 25 mila euro veramente vale fino a sono state accolte cosa vuol dire accolte sono state erogate beh insomma bisognerebbe un po ragionare meglio sopra questi numeri di patuelli che so persone seria e quindi non riesco a capire perché dica una cosa così contro a quello che mi mi sembra tutti gli altri imprenditori e le evidenze stiano dicendo in questo momento vi do un saluto vi ricordo che sul sito di colaporro.it ci sono tante informazioni di giornata che non dovete perdervi ciao